Musica Necrofori del San Salvatore assolti anche in appello, una battaglia lunga 12 anni, l'avvocato Perrici commenta, un processo costato un milione di euro, sono amareggiata per la lentezza della giustizia e i cinque indagati hanno visto stravolta la loro vita. Restyling alla Fontana della Fortuna, grazie agli scavi trovati dei mattoni, possibili gradini del monumento di allora, Brunori annuncia entro l'estate la fine del lavoro. Il welfare di comunità spiegato dall'esperto Felice Scalvini, promotore e leader della cooperazione sociale, l'ex presidente di Assifero, ospite della fondazione di comunità Fano Flaminia Cesano. La musica arabita compie 100 anni, inaugurata la mostra dedicata alla storia della banda per celebrare il suo legame con la tradizione cittadina. Dal tennis con la neocampionessa Federica Urgesi, al calcio con il Sant'Orso 1980, fino alla Fano Fortuna e Nuoto, questa sera dopo il telegiornale, torna sportissimo condotto da Andrea Maduzzi. Buonasera e bentornati a questo nuovo appuntamento con le informazioni locali. In primo piano la pronuncia della Corte d'Assise d'Appello, che ha confermato l'assoluzione piena dei necrofori del San Salvatore accusati di aver intascato i soldi delle famiglie per la vestizione dei defunti. Sentite. Un incubo durato più di 12 anni. Ieri pomeriggio, dopo due ore in Camera di Consiglio, la Corte d'Appello di Ancona ha confermato l'assoluzione piena perché il fatto non sussiste. Un sospiro di sollievo per le cinque persone accusate di peculato, cioè di aver intascato senza girarli all'Asur, i soldi che le famiglie dei defunti davano per la vestizione dei loro cari. L'indagine era stata avviata nel 2011 per fatti avvenuti tra il 2001 e il 2013. Il caso era stato portato alla ribalta nazionale ed era finito anche sulle Iene. Avvocato è riuscita a dimostrare le straneità ai fatti del suo assistito. Immagino sia stato un lavoro lungo ma anche complesso. Assolutamente sì, è stato un lavoro molto complesso, anche perché sono state analizzate all'incirca 3.500 fatture, bolle, documenti molto frammentari, intercettazioni durate per quasi due anni con delle spese inverosimili a carico dei cittadini. Un processo costato milioni di euro. Sono molto contenta di questa vittoria, anche se amareggiata, amareggiata per la lentezza della giustizia, amareggiata perché abbiamo avuto cinque persone che hanno avuto una pubblicità negativa inverosimile nella loro vita, perché all'inizio questo processo è nato come il processo del secolo, con necropori che tagliavano calotte, estirpavano e toglievano pacemaker, soldi, il tutto è risultato tutto assolutamente falso. Sono stati arrestati, ha proseguito l'avvocato, hanno subito una decurtazione dello stipendio per oltre cinque anni e i loro nomi e i cognomi sono stati iscritti su quotidiani nazionali, ma la giustizia, seppur lenta, ha portato una doppia soluzione, sia in primo che in secondo grado. Ricordiamo che l'azienda ospedaliera aveva chiesto anche un risarcimento importante, a questo punto a loro volta possono richiederlo? Assolutamente no, l'azienda ospedaliera ha iniziato con dei risarcimenti esorbitanti, nel corso del primo grado io sono riuscita a dimostrare che oltre i capi d'accusa erano tantissimi e soprattutto venivano imputate oltre 1100 mancati pagamenti e ho dimostrato l'assoluta erroneità dei capi d'accusa, tant'è vero che il pubblico ministero in primo grado ha dovuto depennare, dopo mie eccezioni, oltre 530 defunti e poi nel corso del giudizio sono stati depennati tutti, quindi l'azienda ospedaliera... 900 circa? Assolutamente sì, basti pensare che ho trovato anche una fattura fatta a nome di Finco Pallino, nato l'anno zero, in Via del Paradiso, residente in Via del Paradiso, con tanto di codice fiscale e anche perché un Finco Pallino, nato nell'anno zero, veniva chiesta la condanna nei confronti del mio assistito. Avvocato, ora che cosa succederà? Adesso ci godiamo il momento della vittoria, soprattutto questi 5 ex imputati potranno nuovamente guardare il sole e l'arcobaleno sorridendo e non dovranno più vergognarsi di nulla. Per il resto aspettiamo fiduciosi la fine di tutto e quindi l'irrevocabilità della sentenza e poi valuteremo come ridare dignità a queste persone, come è giusto che sia. I finanzieri del Comando Provinciale di Ancona hanno portato a termine un'importante operazione denominata freezing. L'indagine riguarda un cittadino olandese accusato nei Paesi Bassi di riciclaggio internazionale di denaro derivante da produzione e traffico di stupefacenti. Denaro che attraverso conti olandesi arrivava nelle banche della provincia anconetana per poi essere utilizzato per l'acquisto di un casolare dotato di piscina interna adibito a dimora dell'intestatario e destinato ad essere utilizzato come bed and breakfast. Al termine dell'attività, l'autorità giudiziaria olandese ha emesso un certificato di congelamento di beni applicabile negli Stati membri. Si è proceduto quindi alla confisca di 530 mila euro. Poi i finanzieri di Senigallia hanno messo sotto sequestro l'immobile e hanno accertato che il gestore della struttura ricettiva aveva omesso fin dal 2021 di segnalare le generalità degli ospiti alla questura competente come previsto dalla legge. L'uomo è stato denunciato e sono stati avviati accertamenti anche di natura fiscale sulla gestione del BNB. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un messaggio di allertamento per neve sulle zone 2, 4 e 6 come vedete dalla cartina con validità dalla mezzanotte di oggi alle 24 di domani, mercoledì 8 febbraio. Sono previste deboli nevicate a carattere sparso ed intermittente nel corso della giornata con accumuli inferiori ai 5 centimetri nella fascia da 0 a 100 metri sul livello del mare e tra 5 e 10 centimetri in quella compresa tra i 100 e i 300 metri di quota. A Fanno proseguono le analisi e gli studi necessari al restyling della Fontana della Fortuna in piazza 20 Settembre. Durante gli scavi sono stati trovati ulteriori gradini una scoperta importante che ora va analizzata dagli esperti. Intanto l'assessore Barbara Brunori ha fatto il punto sull'intervento in atto e sulle tempistiche dei lavori. A dicembre del 2022 abbiamo appunto approvato il progetto preliminare per il restauro della Fontana della Fortuna. Questo progetto naturalmente voleva essere raffinato e sicuramente entrare nella specificità dell'intervento perché ricordiamo la Fontana della Fortuna risale intorno al 1550 l'ultima volta che è stata restaurata è stata restaurata nel 2003 grazie all'intervento del Lion Club. In questo caso abbiamo voluto approfondire tutto quello che un po' è la parte tecnico-scientifica attraverso più stadi tant'è che è nello scorso anno esattamente da febbraio-marzo che abbiamo iniziato a fare queste indagini. Inizialmente abbiamo fatto un rilievo a laser per nuvola di punti proprio per determinare quella che era la configurazione attuale della Fontana. Poi in un secondo tempo abbiamo valutato tutte quelle che erano delle schede anzi abbiamo fatto realizzare al progettista delle schede tecniche rispetto agli elementi decorativi parliamo dei leoni dei delfini piuttosto che della vasca ma della stessa statua della fortuna perché devono essere preservati al meglio in termini di materiale e di colori originali. In un terzo tempo abbiamo anche approfondito tutto quello che invece c'è la parte storico-scientifica perché? Proprio perché volevamo essere ancora più fedeli a quello che era l'originale e in questo stadio proprio qualche giorno fa diciamo che attraverso il rivenimento di una fotografia di materiale fotografico dell'Ottocento si è saputo che insomma il livello della fontana fosse un po' più basso dell'accesso della fontana quindi facendo degli scavi sono stati rinvenuti dei mattoni che sono praticamente simili a quelli delle gradinate attuali che sono scoperti per cui grazie anche all'intervento della soprintendenza si è constatato che probabilmente la fontana avesse ulteriori due giri di scalini ora abbiamo dato in carico al progettista di capire come valorizzare diciamo anche questi due questo rinvenimento perché è una cosa storica è importantissima per la nostra città perché ripeto parliamo di una situazione originale sono stati fatti anche altri studi si di carattere idraulico proprio per riuscire a migliorare l'efficientamento di tutto quello che era l'apparato di acqua che in questo momento in un leone non esce quindi dovranno poi essere diciamo anche probabilmente distaccati leoni sopraelevati con il parere della soprintendenza proprio per favorire poi il deflusso il costo dell'intervento sessore? il costo dell'intervento è di 120.000 euro e diciamo il termine dei lavori o meglio la consegna del progetto definitivo ci auguriamo che sia insomma per marzo per poi affidarli e riuscire a realizzarli entro l'estate e l'assessore Brunori ci ha fatto sapere che è stato ripristinato all'attraversamento pedonale sul lungomare mediterraneo al porto di Fano infatti dopo i lavori di asfaltatura mancava la segnaletica orizzontale una richiesta che era arrivata dal nostro telespettatore il quale ci aveva inviato un video poi trasmesso in diretta a Primo Cittadino con il sindaco Massimo Seri è stata approvata all'unanimità la mozione del consigliere regionale di Civici Marche Giacomo Rossi contro la realizzazione del mega impianto agrifotovoltaico all'ingresso del comune di Sant'Angelo in Vado l'impianto di cui parliamo ha ricordato Rossi se realizzato sarà di 7 megawatt con un'estensione pari a 10 campi da calcio a 50 metri dal centro abitato prevede inoltre l'installazione di 10.000 moduli fotovoltaici rialzati fino a 4 metri da terra sono sufficienti questi dati ha commentato il consigliere per capire che un impianto del genere andrebbe a creare un forte impatto ambientale e visivo oltre che un grave danno al valore paesaggistico della zona senza tralasciare i problemi di inquinamento elettromagnetico che si potrebbero creare alle abitazioni adiacenti l'atto non ha valore di impedimento assoluto all'opera ma il Parlamento il Governo e chi ci rappresenta Roma ha concluso Rossi non può ignorare il messaggio unanime arrivato oggi dalle Marche a Pesolo invece lo stadio Benelli avrà un nuovo campo da gioco lo hanno annunciato il sindaco Matteo Ricci e l'assessore al fare Riccardo Pozzi al termine della giunta che questa mattina ha dato il via libera al progetto il Comune ha deciso di destinare i 900.000 euro già previsti per la copertura della Tribuna Prato al rifacimento del campo e altri interventi collaterali in accordo con la società Vispesaro l'obiettivo hanno detto è quello di iniziare i lavori un minuto dopo il fischio finale del campionato in corso in modo tale da poter iniziare la stagione 23-24 con il nuovo campo sempre a Pesolo prosegue anche il progetto Zero Semafori oggi il Comune ha aggiunto la progettazione definitiva di una nuova rotatoria tra la strada statale 16 Adriatica e via Milano come spiegato dall'assessore Belloni a quest'opera andrà ad aggiungersi la messa in sicurezza dell'accesso sulla statale per i veicoli che provengono da via del Carso l'intervento prevede la collocazione di dissuasori a terra e una nuova segnaletica orizzontale Cambiamo argomento Felice Scalvini promotore e leader della cooperazione sociale nonché esperto di welfare è stato protagonista il protagonista dell'incontro sul benessere comune organizzato dalla fondazione di comunità Fano Flaminia Cesano lo ha intervistato per noi Stefania Schiaroli Per la sua esperienza cosa si intende per welfare di comunità? Welfare di comunità significa innanzitutto prendere atto che in una comunità nella città di Fano per esempio chi provvede ai bisogni delle persone non è soltanto la pubblica amministrazione ma sono tutti i soggetti della comunità quindi la pubblica amministrazione ma insieme alle cooperative sociali alle organizzazioni di volontariato a tutte le persone che in regime di rapporto privato le badanti per esempio si occupano degli anziani e a tutte le famiglie che badano ai bisogni dei propri familiari ecco welfare di comunità significa impastare tutto questo vedere che tutto questo avviene dentro la comunità e porsi il problema di valorizzare questi apporti molteplici nel modo migliore con una regia condivisa e consapevole Cosa sono le fondazioni di comunità? Fondazioni di comunità sono uno strumento un'ipotesi di lavoro nata negli Stati Uniti fonda sull'idea che ci possa essere una organizzazione nel territorio che raccoglie risorse materiali dal territorio quindi donazioni sostanzialmente o altre forme di contributo e le rimette in circolo le rimette a disposizione delle esigenze del territorio soprattutto a supporto delle altre organizzazioni diventa un po' il polmone di sviluppo materiale del sistema complessivo del welfare di comunità ma anche di iniziative culturali ambientali chi più ne ha più ne metta ognuno di noi ha una mission nella vita qual è la sua e il suo obiettivo più grande? io ho fatto sempre lo start-upper e adesso anche in età un po' più avanzato continuo a fare lo start-upper mi piace inventare cose nuove promuovere nuove iniziative che possano aiutare appunto i territori le sue emozioni in tutto questo? non lo so forse più che altro un po' di passione e soprattutto scoprire che facendo così si incontrano un sacco di persone stupende e si riceve molto molto quotidianamente da ogni incontro torniamo a parlare del progetto inclusivo nell'area buschiva ai piedi del Beato Sante perché questa mattina si è svolto un incontro a Cesena presso l'azienda Tecno Gym Leader nel settore del benessere infatti il comune di Monbaroccio ha organizzato una visita insieme ai docenti e agli studenti dell'istituto tecnico Genga e Bramante di Pesaro Riteniamo che la nostra realtà sia il luogo perfetto ha fermato il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci per definire i presupposti del progetto ambizioso che stiamo costruendo attraverso l'esperienza e l'innovazione di questa azienda insieme alla visione di futuro dei giovani studenti vorremmo rendere il nostro territorio un esempio di ricerca per la salute e il benessere fisico ma anche mentale il progetto ha concluso il sindaco prevede percorsi dedicati e diversificati per fasce di età e complessità psicofisiche dal benessere all'allegria del carnevale di Fano che domenica ha debuttato in Viale Gramsci a sfilare anche il nuovo carro della musica arabita il complesso folcloristico quest'anno festeggia cento anni e per l'occasione alla banda è stata dedicata anche una mostra allestita a Palazzo Bracci Pagani il servizio di Cristiana Guerra cento anni e non sentirli un tuffo nel passato per riscoprire la storia del complesso di cui il folklore fanese non può più fare a meno la musica arabita per celebrare il centenario della strampalata banda fanese è stata organizzata presso il Palazzo del Carnevale ovvero Palazzo Bracci Pagani una mostra per riviverne e ripercorrerne la storia e le tradizioni un'andata di allegria ha iniziato a lungo corso Matteotti e continuata nel piazzale del palazzo in cui le note del complesso hanno catturato l'attenzione dei passanti e i sorrisi dei partecipanti è all'onore di guidare questa strampalata banda sì dal 1923 che la musica e la vita allegra diciamo Fano e anche tutta Italia perché noi oltre a stare qui a Fano andiamo anche all'estero andiamo a Fano e andiamo anche nelle altre città dove ci chiamano a portare l'allegria del carnevale di Fano cent'anni della musica della vita quanti siete? noi siamo una cinquantina diciamo 45-50 55 seconda delle volte perché dopo gli impiegni della gente non è quanti e che strumenti suonate? gli strumenti ci sono strumenti normali però ci sono i batanai che come vedete ci sono le forbicione ci sono le tenaglie ci sono i martelletti ci sono le pentole strumenti strampalati della musica arabica e domani avrete anche il nuovo carro sì domani ci abbiamo un nuovo carro speriamo di fare una bella figura sul corso mascherato e la musica arabica è sempre la migliore scusate la modestia ma veramente ci dicono tutti il carro della musica arabica è il più bello è il più allegro una mostra cara allo storico fanese Alberto Berardi il cui il padre Enzo col suo cilindro e l'inconfondibile guanto bianco segnò dal 1937 nonostante gli anni difficili del conflitto bellico la storia della musica arabica con la sua straordinaria energia fece rinascere più arrabbiata di prima la banda con nuovi programmi ed oltre 65 elementi all'evento oltre al sindaco agli amministratori locali alla presidente dell'ente carnevalesca Gian Marioli un componente della storica banda Astorre Bilancioni di 96 anni che ha vissuto una giornata indimenticabile Astorre lei ha 96 anni e faceva parte della musica arabica in che anni? dal 50 al 70 a 20 anni che cosa suonava? suonava la chitarra la chitarra fatta col portamondetto l'instrumento questo è quello che c'è qui nel manifesto e oggi e allora è lei qua nel manifesto? io sono io sì una bella soddisfazione dire guarda è il più bellissimo della vita mia come era quella volta? c'era tanta povertà ma anche molta allegria molto erano in 60 un anno gli ho fatto avere tutti i soldi per la divisa della provincia tutta la divisa nuova per un anno per tutti i 60 perché facevo parte del consiglio della musica e la vita anni belli sono arrivato a 96 anni un giorno di festa eh? un giorno di festa è il più bel giorno è il più bel giorno tanti ricordi mi vengono fuori non credevo così non credevo ma è meraviglia le fotografie gigantografie gli abiti originali degli anni 40 e 50 e qualche strumento utilizzato dai musicisti saranno esposti fino al 21 febbraio dalle 17.30 alle 19.30 questa sera dopo il telegiornale torna sportissimo il focus settimanale sullo sport del territorio condotto da Andrea Maduzzi allora sentiamo direttamente dal giornalista Andrea gli sport protagonisti della puntata quali saranno? tennis, calcio e nuoto le discipline di cui ci occuperemo stasera il tennis lo tratteremo con Federica Urgesi neocampionessa di doppio junior degli Australian Open poi il calcio con l'Alma Juventus Fano tornata alla vittoria nell'ultimo turno è tornato alla vittoria nel campionato di promozione anche il Sant'Orso nostri ospiti il vicepresidente Antonino Canapini e il centrocampista Davide Mattioli infine il nuoto accoglieremo Giorgio Andrea Ricci presidente della Fanum Fortuna e Nuoto e il direttore tecnico della società Riccardo Geronazzo Dunque tra poco una nuova puntata di Sportissimo invece il nostro telegiornale torna domani sera alle 20.30 mentre domani mattina la rassegna stampa torna alle 7 insieme a Massimo Foghetti buona serata a tutti buona serata a tutti e Grazie a tutti.